Qualcuno lo conosce già, qualcuno non ancora, lui si chiama Il Molleggiato, quindi già immaginate cosa può fare, è stato in varie trasmissioni televisive, locali e anche nazionali, e adesso stasera qui Giulio Gioia, Il Molleggiato. Sono vestiti originali anni Sessanta. Alla prossima. 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 Sì, 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 sì. Abbiamo il molleggiato e l'articolato. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non c'è l'unico, non c'è l'unico E facciamo un bello applauso a Sosia di Cerentano Sosia di Cerentano